Potrebbe essere l'ex sede dell'Università Sororsola, bene in casa di Salerno, ad ospitare i senza tetto che ruotano nella città di Salerno, secondo un accordo sul quale stanno lavorando il Comune di Salerno e la Curia. Non c'è nessuna ufficialità, solo indiscrezione su questo fronte, ma è certo che c'è una sinergia tra l'amministrazione comunale rappresentata dalla consigliera Paola De Roberto e la Chiesa salernitana per trovare una risposta che sia continua e fissa per i senza tetto, al di là delle misure con le quali il Comune di Salerno si sta preparando in queste ore all'emergenza freddo con il brusco abbassamento delle temperature. Stiamo lavorando insieme alle numerose associazioni di volontariato che sono in rete con noi per garantire sempre più risposte alle persone che vivono per strada. Non sono tantissimi, più o meno i numeri sono stabilizzati, sono tra le 60 e le 80 unità, ci sono più o meno una diecina di donne, dobbiamo dare risposte a tutti. Abbiamo chiesto una collaborazione e un supporto della Curia, in che senso? Nel senso di istituire un polo, chiamiamolo polo della solidarietà, per concentrare un po' tutti i servizi da offrire a queste persone in un unico luogo e concentrare risorse umane e finanziarie in modo da rispondere sempre più ai diritti di queste persone. C'è già un luogo che avete individuato? Noi non lo abbiamo individuato, però voci di corridoio ci dicono che la Curia stia ragionando intorno all'edificio Ex su Rorsola, bene in casa. Qualsiasi luogo è buono perché sia confortevole e permetta un'integrazione di tutti i servizi necessari.